Eccoci, buonasera, un'altra mazzata per Berlusconi, un'altra sentenza della Cassazione, questa volta mezzo miliardo, 500 milioni di euro che dovrà versare al suo arci rivale Carlo De Benedetti. Ancora la vicenda del Lodo Mondadori è arrivata anch'essa a conclusione appunto in Cassazione e evidentemente non esiste la giustizia orologeria ma questa sentenza è arrivata proprio nel giorno peggiore di questa versante, di questa situazione politica, proprio nel giorno in cui Berlusconi doveva lanciare il suo videomessaggio, il rilancio di Forza Italia, dire la sua sul governo e sui giudici. E' un Berlusconi descritto come in preda a un'ira funesta e quindi evidentemente in queste ore si pensa che la vita del governo è appesa a un filo anche perché appunto già il tema della giustizia era caldissimo, già la recente altra sentenza della Cassazione aveva fatto il suo. Già domani c'è la riunione decisiva della giunta per le elezioni del Senato e ci sarà la votazione in seguito alla quale tutti gli esponenti di rilievo del PDL si stringeranno in riunione domani sera con Berlusconi. E lì sarà probabilmente l'ora delle decisioni. Questo è quello che è successo e evidentemente la tensione c'è anche se non tutti pensano che sia una iattura la crisi di governo. Non lo pensa probabilmente Matteo Renzi che oggi ha incontrato in pubblico Walter Beltroni ricevendone una sorta di ideale testimone dal primo segretario del PD a lui che è candidato appunto alla guida del Partito Democratico. Ma non lo pensano sicuramente che sia una iattura gli esponenti del PDL e del Movimento 5 Stelle che hanno attaccato il commissario europeo all'economia Olli Ren che era in visita al nostro Parlamento che incontrando in commissione i parlamentari che si occupano della questione economica e finanziaria ha detto attenzione che la cosa importante è la stabilità. E appunto da questo punto di vista si è sentito rispondere nel modo che vi ho detto dagli esponenti del PDL e soprattutto congiuntamente con una nota del Movimento 5 Stelle. Ma vedremo ovviamente anche le scene finali dell'operazione raddrizzamento della Costa Concordia. Ma tanto per farci riconoscere adesso si sta litigando su quale porto dovrà ospitare l'ultima tappa di questa vicenda cioè la rottamazione della stessa nave da crociera. Vedremo le situazioni in Siria e vedremo anche altro ma soprattutto tra 30 secondi vedremo insieme i titoli. Berlusconi perde anche la partita del Lodo Mondadori. La Cassazione conferma la condanna al risarcimento alla CIR di De Benedetti per una cifra attorno ai 500 milioni di euro circa 70 milioni in meno rispetto alla sentenza d'appello. Uno schiaffo alla giustizia commenta Marina Berlusconi. Per De Benedetti è stata acclarata la gravità dello scippo. Immediate le reazioni dal PDL in cui Falc e Colombo per una volta sono d'accordo e parlano di una sentenza spropositata. Ma questo verdetto sul Lodo Mondadori arriva alla vigilia del voto raggiunta sulla decadenza del Cavaliere da senatore. Fa slittare di 24 ore forse il video messaggio dell'ex Premier previsto per oggi. Nel video Berlusconi annuncerà la nuova Forza Italia dice Alfano ma intanto chi gli è vicino lo descrive con una belva ferita. Nessuno sa ancora cosa farà il Cavaliere che medita di rompere le larghe intese. E nel PD che cerca un accordo sulla data e sulle regole del congresso l'asse Renzi-Veltroni prova a conquistare i democratici. A Roma l'ex segretario investe il sindaco come suo successore ma gli dice non devi commettere i miei errori. E aggiunge non riesco a immaginare un ruolo di segretario staccato da quello di candidato Premier. Da Renzi un nuovo attacco al governo ma ceri e no l'importante è vincere. L'Italia è come la Ferrari ma per vincere deve avere un motore più competitivo. Il commissario dell'economia dell'Unione, Olli Renna, alla Camera esprime la preoccupazione per la situazione del nostro paese per la cancellazione dell'Imu. Roma deve rispettare gli impegni, dice il ministro Saccomanni, lo rassicura, ma da PDL e 5 Stelle arrivano parole durissime. Renna è un signor nessuno, ha detto Gaspari. Si sta ingerendo negli affari del nostro paese, dicono i 5 Stelle. E' riuscita quindi un successo la rotazione della costa Concordia. Alle 4 di questa mattina la nave è stata riportata in asse 19 mesi dopo il naufragio all'isola del Giglio. Soddisfazione del capo della protezione civile Gabrielli, dice la priorità ora è il recupero dei corpi degli ultimi due dispersi. Entro la primavera la nave sarà pronta per essere trasferita. Quattro porti si contendono il relitto. Napoli, Palermo, Piombino, Civitavecchia. Mosca solleva nuovi dubbi sul rapporto degli ispettori ONU sull'uso di armi chimiche in Siria e conferma la propria linea non interventista. Ma dall'ONU l'avvertimento è chiaro. Se il governo di Assad vuole evitare l'uso della forza deve mettere le armi chimiche sotto il controllo internazionale. Da stasera anche la cronaca nella linea continua di attualità della 7. Un settimanale, linea gialla, approfondirà, guidato da Salvo Sottile, casi e storie coinvolgendo anche i telespedatori. L'appuntamento è alle 21.15 dopo 8.30 questa sera. Buonasera, l'abbiamo definita una mazzata e non sapremmo come dire diversamente. Ancora dalla Cassazione, ancora su Berlusconi, in un aspetto che gli è molto caro, dice chi lo conosce, cioè i propri averi. 500 milioni che nella sentenza definitiva del Lodo Mondadori la Fininvest dovrà versare proprio alla CIR dell'Arcinemico, finanziario ed economico e imprenditoriale di Berlusconi Carlo De Benedetti. Era stata questione di anni, mesi, poi di settimane, come una cosa rimasta sospesa per oltre un ventennio. Era il 1991 e tenuta sotto traccia anche nella fosa estate dei Berdetti sul Cavaliere. E poi oggi alle 14.32 quell'antico problema è tornato perché ci si metta sopra la parola fine. Interdizione, decadenza, parole che qui non contano, qui oggi contano solo i soldi e sono tanti, tantissimi. La Fininvest ha perso e ha perso ancora Silvio Berlusconi. Il ricorso non ha cambiato se non per un motivo su 15, il 13esimo, la sostanza delle cose. Il Cavaliere paga e l'ingegnere, anche se in CIR non c'è più, prende. La Corte di Cassazione conferma nel resto l'impugnata sentenza e lei è la madre di tutte le sentenze, il Lodo Mondadori, parola breve dall'infinito senso. Se è una guerra, ma tutti in fondo la chiamano così perché servì a Berlusconi per avere la proprietà della Mondadori soffiandola ai De Benedetti, da ora c'è un vincitore che non è morale ma concreto. È una guerra che entra nella storia della giustizia italiana e lo fa con due numeri. Il primo, le 185 pagine necessarie per respingere il ricorso contro la CIR per il risarcimento. Il secondo, i 500 milioni di euro, mezzo miliardo che fa anche più scena, che la società forziere della famiglia Berlusconi dovrà sborsare. Il conto non è definitivo, ma è intorno ai 500 milioni che si andrà a finire, scontando al Cavaliere il noto 15% dai 564 iniziali, circa una settantina di milioni. Soldi, tanti soldi, anche se uno ne parla come fossero bruscolini. Accantonato nei bilanci, grosso modo previsto, ma è un importo che vale la metà della CIR in borsa e un quinto della Mondadori. Ricordate? Rapina a mano armata, la definì Berlusconi. Da allora è per sempre una sfida. E tutto è finito qui. Ancora lei, la Corte di Cassazione, terza sezione civile. Sentenza tecnicissima, dicono gli esperti, ma semplice epilogo di una guerra stellare tra due imperi, nel contorno di centinaia di ore di aule giudiziarie, compresa una prescrizione per il Cavaliere da quel reato di essere stato corresponsabile della corruzione con cui il grande impero editoriale di Arnoldo passò alla fine in Vesta. Ma reato che costò a Previti il suo avvocato con danna definitiva. Per la giustizia civile noto ci fu un danno per i contendenti e il lodo che assegnò la prima casa editrice italiana fu viziato. Quella questione i giudici l'hanno sempre considerata un peccato originale. C'è chi dice che la scintilla che portò Berlusconi a scendere in campo fosse proprio quella di dover pagare un giorno. E quel giorno è oggi. Vinti e vincitori, il pensiero del Cavaliere finirà probabilmente nell'atteso videomessaggio. Dopo la sentenza di primo grado aveva parlato di rapina a mano armata. De Benedetti usa oggi la parola scippo. Di mezzo d'altronde ci sono tanti tantissimi soldi. Ma è Marina Berlusconi, presidente del gruppo, che si trova con mezzo miliardo di euro in meno a commentare la sentenza in chiave antimagistrati. Nella sua lunga nota non punta solo sull'aspetto economico, ma anche e soprattutto sulla spina di famiglia, la giustizia. Questa sentenza, scrive, è uno schiaffo alla giustizia e la conferma di un accanimento sempre più evidente. Da vent'anni certa magistratura, assieme al gruppo editoriale di Carlo De Benedetti, tentano di eliminare dalla scena politica mio padre, aggredendolo su tutti i fronti. E ora la magistratura ci impone definitivamente di finanziare proprio il gruppo De Benedetti, per un importo spropositato, infinitamente superiore al valore della partecipazione, fino in Vestinella Mondadori. De Benedetti continua a strapparlare di scippo. Neppure un euro da parte nostra era ed è dovuto. Lo sconto, una beffa per Marina Berlusconi, che contro quello che definisce un nuovo scandalo giuridico annuncia «Non ci arrendiamo». Una vicenda finalmente finita, invece, per l'altro contendente della guerra di Segrate. Carlo De Benedetti pensa proprio che oggi giustizia sia stata fatta. Finalmente, scrive anche lui in una nota, è stata acclarata la gravità dello scippo che la CIR, attraverso la mia persona, subì a seguito dell'accertata corruzione di un giudice da parte della fine in Veste di Berlusconi, il quale a quel tempo era ancora ben lontano dall'impegnarsi in politica. La spartizione del gruppo Mondadori Espresso, ricorda ancora l'ex presidente della CIR, avvenne in condizioni per me molto sfavorevoli, per un grave motivo che all'epoca nessuno conosceva. Ci sono voluti sei gradi di giudizio, tre penali e tre civili, per arrivare a questa inappellabile decisione. E ovviamente l'ira funesta di Berlusconi adesso si riverbera sulla scena politica. Intanto rinviato a quanto pare a domani il video messaggio, ma domani è anche un altro giorno del giudizio, quello della giunta per le elezioni sulla sua decadenza, la prima votazione, dopo la quale a quanto pare ci sarà una riunione serale a Roma, a Palazzo Grazioli, con Berlusconi ed è lì addirittura il PDL potrebbe decidere se staccare la spina al governo. Alle 15 la sentenza della Corte di Cassazione sul Lodo Mondadori illumina il mistero del rinvio del video messaggio di Berlusconi, dato per sicuro per stamattina, poi rinviato a domani. E' proprio questo rinvio la reazione preventiva del Cavaliere a una condanna confermata e ritenuta abnorme, lo dice Alfano, addirittura provocatoria nella riduzione minima del risarcimento dovuto da Berlusconi a Carlo De Benedetti, il suo competitor di allora, l'avversario di sempre. In un soffio, quando le agenzie battono la notizia, evaporano le altre ragioni del rinvio fioccate per tutto il giorno, le pressioni del Quirinale e del Premier, la cautela per un gesto di rompente, malgrado contenuti annunciati come pacati, magistratura a parte, e perfino ragioni di carattere estetico, il Cavaliere non sarebbe stato soddisfatto dell'inquadratura. La verità è che Berlusconi ha deciso di tenersi per domani, un passaggio attesissimo, di poter aggiustare il tiro e guadagnare 24 ore per scegliere se uscire allo scoperto prima del voto della Giunta sulla decadenza o dopo. Dall'antourage del Cavaliere trapela la notizia che la registrazione, non ancora avvenuta nella forma definitiva, potrebbe esserci domattina. Di sicuro, lo annuncia Alfano, domani sera, dopo il voto della Giunta, ci sarà una riunione a Palazzo Grazioli, segretario e delegazione dei ministri, per decidere da farsi. Di qui la voce è che il videomessaggio possa slittare ancora. La verità è che ancora una volta nulla è deciso e che il PDL fa i conti con l'ira del leader. Berlusconi sarà una belva, quasi impossibile parlargli, commenta infatti una delle tante Colombe che oggi tirano fuori gli artigli. Perché una cosa è certa, la sentenza della Cassazione sul lodo Mondadori ha il potere di mettere per un giorno tutti d'accordo, Falchi e per l'appunto Colombe, e rinviare a domani tutto, lo scontro nel partito, le ambizioni per la guida della nuova Forza Italia, le frecciate Santanchè contro Alfano, oggi volano parole che sono sinonimi. Sentenza abnorme, dichiara il segretario, i magistrati vogliono la licenza di uccidere al saltiro per l'appunto Santanchè. L'annientamento, aggiunge Elisabetta Casellati, la distruzione, Rotondi, l'assedio finale, la prova dell'accanimento, questo è Gasparri. Ma nel partito di Berlusconi è forte anche lo smarrimento e il senso di attesa. Nessuno sa davvero cosa farà Berlusconi, se per esempio l'altra voce dominante deciderà di dimettersi dopo il voto della Giunta e prima di quello dell'Aula. Tutti però ricordano queste immagini, la metamorfosi dell'ottobre 2012, quando in un videomessaggio Berlusconi fece un passo indietro a favore di Monti e per le primarie del PDL e due giorni dopo, dopo la condanna in primo grado per il processo Mediaset, strappò con conferenza stampa Villa Gernetto e di fatto tornò in campo. Vorrebbero sapere che farà Berlusconi ovviamente anche gli alleati avversari del Partito Democratico, ma su quel fronte oggi il fatto importante è accaduto a Roma, l'incontro tra il primo segretario del PD e quello che forse è sicuramente, anzi è il candidato più accreditato alla guida di quel partito. Dal Lingotto alla Leopolda fino a Roma. Qui al Tempio di Adriano nel 2009, Veltroni fermò la sua corsa alla guida del PD. Oggi benedice quella di Renzi, ritagliandosi il ruolo di padrino politico dell'impresa. Le storie politiche cambiano e sarebbe sbagliato e presuntuoso pensare che si debba riprendere quella storia, ma cominci una storia nuova, con Matteo, con il Partito Democratico tutto intero. Ai tempi della rottamazione erano subaricate diverse, ma oggi Veltroni dispensa consigli a quello che considera il suo successore. Non lanciare solo messaggi forti, ma anche inclusivi, senza però fare i miei errori. Non manca un tratto paterno. Matteo è sollecitato, è capitato anche a me, è sollecitato da mille spinte a fare la battuta che poi rimane sui titoli dei giornali. È un po' come quei ragazzini che dicevano ad Alberto Sordino un giorno in pretura America facce Tarzan e poi gli portavano via i vestiti e lo lasciavano nudo. Condividono lo spirito maggioritario e riformista e molto altro. Non serve un partito pesante se produce risultati leggeri, la versione di Renzi. Partito solido in società liquida va a fondo, la versione di Veltroni. Il sindaco raccoglie il testimone, il sogno di Veltroni. Fu tradito dalle correnti, dice rinfocolando i suoi argomenti. Al PD non servono appunto correnti, ma tsunami di idee. E riconduce l'età dell'oro del partito alla campagna elettorale di Veltroni. Per il dopo solo critiche. Quando noi dicevamo che votavamo PD alle elezioni del 2008, nessuno ci prendeva in giro. Magari non ci votavano, magari non tutti erano d'accordo. Ma si aveva l'impressione di fare un qualcosa che fosse, sarebbe da dire cool. Bersani ha detto una cosa, non volevo vincere sulle macerie. Ecco, la prossima volta io vorrei vincere. Poi le macerie le ricostruiamo e facciamo diventare questo paese un pochino più serio. Negli ultimi giorni utili, prima che si definiscano le regole congressuali, Veltroni fa un assist a Renzi. Non riesco ad immaginare un segretario staccato dal candidato premier. Allora l'ascesa del sindaco di Roma Veltroni alla guida del partito accelerò la fine di Prodi. Oggi al governo c'è Letta. Sono convinto che possano convivere, dice l'ex, ma nelle stesse ore il premier riceve a Palazzo Chigi Epifani. L'offensiva di Renzi alle larghe intese sembra salita di livello. Il rottamatore, infatti, prova a smorzare le polemiche seguite alla sua frase. Se andiamo a votare li asfaltiamo, ma non rinuncio a pungere il governo. Ci vuole più coraggio nel fare le riforme. Sento qualcuno che dice dovremmo incrociare la ripresa come se la ripresa fosse un auto. Devo prendere la coincidenza con il 64. La ripresa non è un qualcosa che si incrocia, che si aggancia, che si prende per caso. La ripresa si costruisce. Queste le parole di Renzi che rinfocoleranno ovviamente le polemiche sul governo. Ma un'altra polemica oggi è importante a Roma, perché addirittura è tra il commissario europeo all'economia, Olli Ren, che era proprio in visita alla nostra Camera dei Deputati, e i parlamentari, come vedremo, un po' di tutti gli schieramenti. Forse non sarà particolarmente popolare Olli Ren, commissario agli affari economici, nonché vicepresidente della Commissione europea. Ma da qui, a definirlo signor nessuno, ce ne passa. Eppure è così che lo ha apostrofato oggi il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, aggiungendo in sovrappiù che si tratta di persona sgradita e dunque faccia il piacere di prendere l'aereo e togliere il disturbo. Perché? Perché Ren, finlandese, rigoroso e forse un tantino pignolo, Questa mattina si è presentato in Commissione bilancio alla Camera e ha detto in sostanza che 1. Il Consiglio europeo aveva raccomandato di spostare la pressione fiscale dai fattori di produzione al patrimonio e al consumo e l'Italia, abolendo l'IMU, ha fatto esattamente l'opposto. 2. Che l'Europa ci terrà d'occhio per vedere come applicheremo la nuova service tax. 3. Che sì, siamo in linea con le previsioni di pareggio di bilancio per il 2014, ma se si creeranno buchi, le misure compensative dovranno essere concordate con Bruxelles. E 4. Che dobbiamo sbrigarci a fare le riforme, in particolare tagliando il costo del lavoro, perché chi lo ha fatto come la Spagna va meglio, chi come noi no, arranca. E per dimostrarlo ha riportato le cifre dello spread, che ormai ci vedono praticamente allineati con Madrid, benché anche oggi comunque un soffio più bassi. Ma se l'esortazione a tagliare il costo del lavoro è praticamente passata inosservata, pur essendo gli stipendi italiani fra i più bassi in Europa, la questione IMU invece ha sollevato un vero Vespaio, con la reazione di Gasparri, ma non solo. Pure il Movimento 5 Stelle ha parlato di una vera e propria ingerenza di Holly Ren nelle nostre faccende, aggravata dal fatto che il commissario europeo ha ripetuto ancora una volta che per risollevarsi dalla crisi la stabilità è fondamentale. Anche perché, per non farsi mancare nulla, Ren ha azzardato un paragone fra il nostro paese e la Ferrari, intesa come macchina bella sì, ma bisognosa di una revisione al motore per essere competitiva. E dunque, poteva mancare la risposta educata ma leggermente risentita di Maranello? Certo che no. E così ecco Montezemolo sottolineare che se l'Europa detta le regole della gara, e le regole sono solo il rigore, si tratta di un mito fine a si stesso, perché di troppo rigore si muore. Dopodiché, dando un'occhiata oggi ai mercati, ne dovremmo concludere che alla nostra ripresa qualcuno comunque ci crede. Siamo gli unici a chiudere con il segno più. Poca roba, ma meglio di niente. E per completare le risposte a Ren c'è anche quella del vicepresidente del Parlamento europeo, del PD, Gianni Pittella, che è anche uno dei candidati alla segreteria del partito. Ren la smetta di fare il maestrino e di dare lezioni non richiesta al nostro Paese. Pensi piuttosto ai disastri che la politica di austerità da lui propugnata sta causando ovunque in Europa. Non precisamente un pieno di consensi. Adesso andiamo a vedere però un'operazione che si è conclusa bene, e bisogna dirlo con chiarezza, Bene, quella del recupero della costa Concordia. Bene, se pensiamo soprattutto che 20 mesi fa ci eravamo purtroppo coperti di vergogna. Le sedie dove si prendeva il sole che spuntano dai balconi accartocciati, le tende che ancora incredibilmente pendono dalle cabine. La Concordia oggi fa più paura di ieri perché basta guardarla e la memoria torna subito a quella notte. Alle 32 vittime, le grida di chi tentava di fuggire, a quei due corpi che ancora non si trovano e chissà dove sono. Ci sono volute 19 ore per far riemergere questo gigante del mare, vissute su e giù, come sulle montagne russe. Con il fiato sospeso racconta oggi Nick Sloan, il responsabile del progetto, il sudafricano che adesso, qui tutti, chiamano l'eroe del giglio. Quando le operazioni sono iniziate c'era molta tensione, racconta Sloan, poi con il passare delle ore abbiamo capito che tutto stava andando per il meglio. Fino a quell'istante, alle 4 di notte, al suono della sirena del porto, quando la rotazione è ufficialmente terminata. Gli applausi al momento dell'annuncio, gli abbracci dell'agente del giglio agli 11 tecnici, gli 11 uomini d'oro che hanno coordinato le operazioni. Nessuno ha sbagliato una mossa e adesso è il momento di dirlo. Tutta la parte ingegneristica è orgogliosamente italiana, vero ingegnere? Per la maggior parte sì. Gabrielli lo dice davanti a tutte quelle telecamere che a gennaio avevano raccontato questa tragedia tutta italiana. Ora è il tempo del riscatto, anche verso chi in questo progetto non ci credeva. Adesso vorrei che queste persone con la stessa sicumera si presentassero a rendere conto delle cose che hanno detto in questi giorni. Questo non me lo potete togliere perché ci si insegna che nella vita non si è sempre in Cudine. Ma tanto resta ancora da fare. Nei prossimi mesi la concordia sarà stabilizzata. Due terzi sono ancora sommersi. Bisogna riportarla sulla linea di galleggiamento. Solo allora, forse a primavera, sarà portata via. Destinazione ancora incerta. Con i sindaci dei comuni interessati che litigano tra loro. Palermo, Civitavecchia, Piombino. Ma il porto di Piombino è tutto da attrezzare. Quello che servirà lo pagheremo, assicura oggi l'armatore Costa Crociere, che fino ad ora ha tirato fuori 600 milioni di euro. Ma per decidere c'è ancora tempo. Oggi si pensa ad altro. Dei did it, scrivono i giornali stranieri. Ce l'hanno fatta. Non era un atto di terrorismo. Non era legato al terrorismo internazionale. L'episodio di ieri alla base, al quartier generale della Marina Americana a Washington, che ha fatto la morte di 13 persone. Ormai questo è chiaro ed è stato comunicato dalle autorità. Resta incredibile però che una persona, più persone, abbiano potuto entrare, un contractor a quanto pare con un regolare badge, potuto entrare all'interno del quartier generale della Marina e aprire il fuoco in quel modo, facendo quella strage. Strage è un termine che purtroppo abbiamo usato tante volte. E a quanto pare, per quanto riguarda la Siria, non è finita. È già sul tavolo dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza la bozza franco-britannica con la supervisione americana sulla Siria. Per questa sera è prevista una riunione alla sede di New York, delle Nazioni Unite, per valutarla. Secondo le indiscrezioni, il testo contiene tutti i punti che la Russia ritiene inaccettabili, in particolare la minaccia dell'uso della forza, in base al capitolo 7 della Carta dell'ONU, qualora Bashar Assad non dimostri la sua piena collaborazione con gli ispettori che dovranno prima prendere in custodia e poi smantellare l'arsenale chimico di Damasco. Ne viene fuori che Russia e Stati Uniti a Ginevra, nonostante l'accordo annunciato, non devono essersi capiti completamente. Solo ieri John Kerry, in un vertice a tre con i ministri degli esteri britannico e francesi, aveva detto con convinzione. La Russia è con noi nel ritenere che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza debba essere vincolante e quindi prevedere l'uso della forza in caso di inadempienza. Mosca però pensa piuttosto il contrario. Lo ha ripetuto oggi per ben due volte il ministro degli esteri, Lavrov, prima il collega francese Fabius, con il quale ha convenuto che ci sono ancora divergenze da appianare, e poi al telefono con il britannico Haig. La Russia è ancora l'unico paese a sostenere di avere prove alternative che finora non ha mostrato al rapporto degli ispettori dell'ONU sull'uso di armi chimiche nel conflitto ed in particolare sul massacro del 21 agosto alla periferia di Damasco, presentato ieri dal segretario generale Ban Ki-moon. Nel documento il nome di Assad non è citato ufficialmente, ma leggendolo il senso è chiaro. È stato usato gas sarin e lanciato, con una tecnologia missilistica incompatibile con le capacità dei ribelli, dunque può essere stato solo il regime. La diplomazia lavora in qualche modo oscura le notizie che arrivano dal campo, dove sono ancora una volta i civili a pagare il prezzo più alto della guerra civile. Oggi ci sono sette morti e più di venti feriti per un'autobomba esplosa ad un posto di blocco gestito dai ribelli vicino al confine con la Turchia. La stragrande maggioranza passanti innocenti. Il nostro telegiornale si occupa della cronaca solo quando è necessario, ma è ovvio che in una grande televisione di attualità, come vuole essere la Sette, ci debba essere spazio anche per questo genere, che poi sono i fatti eccezionali che riguardano la gente comune. Un po' il contrasto con quello che è spesso la materia dei telegiornali, fatti notevoli o normali che riguardano persone conosciute. La cronaca è anche questo. Stasera si apre una nuova linea di cronaca in prima serata sulla Sette, una linea gialla. Così è il nome della trasmissione che sarà condotta da questa sera appunto da Salvo Sottile. Ciao Salvo. Ciao Enrico. Buonasera. Con grande piacere che svelo le prime immagini dello studio di linea gialla ai telespettatori del telegiornale della Sette. Come dicevi tu, racconteremo la cronaca in tutte le sue forme. Voglio sgombrare subito il campo dai dubbi, senza morbosità. Racconteremo ogni tipo di storia, storia di gente che aspetta risposta, che aspetta giustizia ma senza morbosità. Come i familiari dei 15 ricercatori di Catania, tutti giovani ragazzi che studiavano e lavoravano inconsapevolmente all'Università di Catania e si sono ammalati di tumore perché studiavano e lavoravano sopra un pozzo di veleni. E pensate, il paradosso è che cercavano proprio l'antidoto contro il cancro. Abbiamo fatto questo tipo di inchiesta scendendo nei particolari di questa storia, mandando i nostri inviati per accendere i riflettori su una storia di cui non parla nessuno e che ci sembrava giusto sottolineare. Parleremo di tante storie, storie conosciute e storie meno conosciute, ma porteremo la cronaca, la grande cronaca sulla sette e almeno questo è il tentativo che faremo. Sono un po' emozionato ovviamente a fare questo primo collegamento con te Enrico perché essendo, avendolo fatto il primo della mia vita con te, spero che questo non sia l'ultimo naturalmente perché tu sei ancora giovanissimo ma io mi sento un po' imbecchiato. Senti, va bene, non sei superstizioso, quindi non ti dico niente. In ogni caso, buon lavoro, questo lo dico a tutto il tuo staff e appuntamento alle 21.15, quindi con Linea Gialla, la prima puntata di questa trasmissione. Grazie davvero. A dopo. Grazie, grazie Enrico. Allora, subito dopo di noi però, ovviamente, come sempre, c'è Lilli Gruber che ci attende con 8.30 e ovviamente sta sul tema di più stretta attualità che è la sentenza del Lodo Mondadori. Ne parlerà con Elisabetta Rubini, che è avvocato sulle posizioni, per intenderci, della CIR di Carlo De Benedetti e con il responsabile giustizia del PDL, Enrico Costa. Noi ci fermiamo. Allora, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio quindi senz'altro a Lilli Gruber a 8.30, poi c'è Linea Gialla. Buonasera, domani. Buonasera, domani.